Stefano, come direttore di uno dei festival internazionali del cortometraggio sicuramente più importanti d'Europa, che è lo Skepto, che si è affermato, ormai siete arrivati alla quinta edizione, quanti cortometraggi hai visto fino ad oggi? Almeno 3.000. Senti, qual è la matrice comune che hanno in positivo e in negativo? Non tutti, queste caratteristiche non sono comuni esattamente a tutti, però il negativo come difetto maggiormente diffuso probabilmente è quella di vestire il prodotto cortometraggio come se fosse un film, quindi il capitolo di un film, qualcosa di non sempre compiuto, questo è un difetto che riscontro in tantissimi cortometraggi, è veramente molto comune. Più precisamente cosa vuoi dire? Per esempio molti cortometraggi sembrano un pilot, un estratto di un film, quindi un capitolo che... Quindi non si concludono in qualche modo? No, questo tra l'altro è qualcosa che accade anche nei cortometraggi con un certo budget alle spalle, quindi probabilmente è legato a motivi diversi, nel caso ci sia un budget elevato probabilmente è il fatto che la casa di produzione e distribuzione voglia fare un cortometraggio puntando già alla realizzazione di un lungometraggio, allora agisce in questo modo. Molto spesso invece è proprio una questione di concezione, quindi l'artista che ha un'idea ma ragiona come se stesse facendo un lungometraggio e per motivi economici o tecnici realizza il cortometraggio. Senti, tu sai che questo è un canale che è dedicato ai filmmaker, no? A filmmaker professionisti o filmmaker che stanno per diventare dei professionisti o semplicemente dei appassionati di cinema, di video, di cinema indipendente. Allora, un consiglio che il direttore artistico di un festival di successo potrebbe dare a tutti questi filmmaker, qual è? Un consiglio generale è quello di concepire e realizzare cortometraggi pensando a chi li guarda. Molto spesso il cortometraggio sembra fatto solamente sui propri gusti e sembra che debba piacere solo a chi lo fa. Pensate a chi lo deve guardare, guardatevi intorno, state attenti alla durata, molto spesso sono cortometraggi che hanno un po' troppe lungaggine e potrebbero essere più corti diventando molto meglio di quello che effettivamente sono. Che differenza c'è tra un film e un cortometraggio? Per essere sintetico è la stessa differenza o almeno molto simile tra quello che si considera romanzo e racconto breve. Non è solo la lunghezza ma è il modo di costruire la storia, il modo di presentare i personaggi e tutti gli intrecci che l'autore va a raccontare nel corto. Tornerei al discorso prima dell'essere compiuti. Il cortometraggio deve essere compiuto, deve essere bello all'inizio, deve essere intelligente la storia e alla fine in chi lo guarda deve comunicare il fatto che è veramente qualcosa di compiuto, ha senso così com'è. Senti, e invece di positivo che cosa c'è che ria comune? Quello che a me piace più del cortometraggio è il fatto che la libertà creativa è molto maggiore rispetto ad altri prodotti legati alle arti visive, quindi maggiore libertà, maggiore coraggio nell'affrontare alcune tematiche e maggiore libertà creativa. Quindi molti cortometraggi sembrano usciti fuori da un vero e proprio laboratorio creativo di linguaggi e questo è un qualcosa che è veramente positivo e che spinge a guardarne sempre di più.